Buona giornata e ben ritrovati, ben ritrovati, benvenuti negli studi di Teleradiopace, da dove va in onda il primo appuntamento in diretta della nostra giornata di questo 18 di marzo. Siamo arrivati a giovedì, quindi abbiamo scavallato sia la metà del calendario, cioè la metà del mese, sia la metà della settimana. Terza settimana del terzo mese del 2021, eccoci insieme come ogni mattina dal lunedì al venerdì alle 7.30 con la rassegna stampa. Prima di andare a leggere, come sempre, i quotidiani in edicola questa mattina, andiamo a capire, a vedere che giornata sarà e iniziamo con il santo del giorno. Oggi 18 di marzo la chiesa ricorda e festeggia San Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della chiesa che nacque appunto a Gerusalemme nel 314. Altri santi ricordati oggi, San Salvatore da Horta, San Edoardo II il Martire, reghe d'Inghilterra, Sant'Alessandro di Gerusalemme, vescovo e martire, Beata Marta Le Burtier religiosa e poi altri santi ricordati oggi, San Braulio vescovo, Beata Celestina Donati fondatrice, Sant'Anselmo II di Lucca vescovo, San Frediano di Lucca, c'è una bellissima chiesa, è proprio dedicata a lui nel centro di Lucca. E poi Beati Giovanni Tils e Ruggero Vrenno Martiri e San Leopardo di Tur e Remita. Auguri a tutti coloro che oggi festeggiano l'onomastico il compleanno o qualche altra lieta ricorrenza in questo 18 di marzo che si apre ancora con cielo sereno, poco nuvoloso. Però attenzione perché entriamo in una fase particolarmente diciamo così fredda perché abbiamo questo colpo di coda dell'inverno quindi con temperature che scenderanno molto in tutta Italia, in particolare sull'Italia settentrionale con la possibilità di nevicate a quote anche abbastanza collinari sulla pianura padana e nelle altre regioni del nord insomma rimarranno sui 700-800 metri qua in Liguria la quota neve. Poi dobbiamo dire che in Liguria pioverà anche abbastanza poco tutto sommato in questo weekend quindi intendendo già da oggi in poi però oggi potrebbe essere la giornata in cui qualche precipitazione arriva qualche precipitazione nevosa sui rilievi e qualche precipitazione invece piovosa sulle coste ma soltanto come sconfinamento quindi non avremo proprio delle vere piogge insistenti e diciamo così diffuse ma avremo invece delle piogge sparse appunto è solo come sconfinamento perché in realtà le piogge sono soprattutto previste sui rilievi parliamo di Alpi Liguri per il Ponente e del nostro comparto a Vetano e Val Trebbia per quanto riguarda il Levante e comunque il fine settimana trascorrerà invece in maniera piuttosto asciutta anche domani non dovrebbe piovere e così anche sabato e domenica però attenzione perché lo abbiamo già detto da qualche giorno c'è questa nuova ondata di freddo con notti veramente molto molto gelide ritorneremo a valori bassissimi non è che in questo ultimo periodo di notte abbia fatto molto caldo diciamoci la verità perché nonostante abbiamo avuto dei pomeriggi con 18 addirittura 20 gradi l'altro ieri oggi cioè nelle notti siamo sempre scesi sulla costa tra i 7 e gli 8 gradi questa notte anche meno abbiamo avuto anche i 4 gradi e mezzo 5 gradi questa situazione ancora andrà in calo e quindi avremo nelle notti anche 2-3 gradi sulla costa e temperature negative nell'entroterra quindi lo diciamo bisogna stare attenti perché insomma i malanni legati a questi raffreddamenti improvvisi sono sempre in agguato quindi vestiamoci non facciamo non guardiamo soltanto il calendario siamo vicinissimi alla primavera ma assolutamente dobbiamo stare attenti in questo momento storico a non prendere nessun tipo di malanno nemmeno quelli normali di stagione quindi copriamoci copriamoci più possibile nei pomeriggi tutto sommato non avremo un'escursione termica enorme quindi anche oggi pomeriggio non sentiremo più il calore dei giorni scorsi arriveremo a 13-14 gradi al massimo quindi già da oggi inizia questo calo anche nelle temperature massime la situazione sarà così per tutto il fine settimana domenica compresa quindi insomma mettiamoci appunto in questa situazione mentale adesso di essere ancora in inverno insomma adesso invece andiamo a vedere la situazione del traffico su strade e autostrade della nostra regione sapete la chiusura tra l'allacciamento con la 12 e la 7 in direzione Milano e quindi è chiuso il tratto del collegamento a 7-12 Genova-Bolzaneto e questo già provoca dei rallentamenti in direzione Genova tra Busalli e l'allacciamento con la 10 perché c'è un'unica corsia con il doppio senso di circolazione quindi c'è veramente molto molto caos coda di 3 km perché chi arriva dal Tiguglio lo sapete insomma dal Levante deve per forza poi uscire a Genova Ovest e qui c'è appunto l'ingorgo andando a vedere invece sulla 12 abbiamo già delle situazioni di code in particolare proprio sul nostro territorio tra Recco e Chiavari in direzione Rosignano abbiamo una coda di un chilometro per lavori e coda di un chilometro anche tra Chiavari e Recco in direzione Genova quindi questo tratto in entrambe le direzioni è appunto contraddistinto da rallentamenti ora non capisco quando si dice Recco-Chiavari c'è un altro casello di mezzo con un chilometro di coda che cosa si voglia dire le indicazioni di autostrade sono un po' nebulose a volte Genova-Est allacciamento a 12 a 7 coda di 2 km appunto già questo è più comprensibile perché dopo Genova-Est ci si ferma per il restringimento di careggiata il fatto di dover poi andare in un unico senso cioè quello di Genova-Ovest andiamo a vedere anche la 10 con la chiusura del casello di Celle Ligure questo fino al 19 quindi fino a domani compreso e poi abbiamo in questo momento una coda di un chilometro tra Savona-Albissola in direzione Genova per lavori e Arenzano-Voltri in direzione Genova un chilometro di coda per lavori poi sulla A26 Voltri-Masone solita coda un chilometro appunto in direzione Gravellunatoce quindi in direzione Piemonte per coloro che appunto vogliono salire dall'A26 quindi tra tutte queste notizie ricordiamo in particolare la coda sulla A12 tra Recco e Chiavari e viceversa tra Chiavari e Recco quindi abbiamo questa situazione adesso invece pensiamo a coloro che viaggiano ogni giorno con il treno e andiamo a vedere qual è la situazione purtroppo ci sono due ritardi piuttosto importanti 17 minuti di ritardo per l'Intercity 6-5-8 diretto a Milano Centrale ricordiamo 17 minuti di ritardo e 18 minuti di ritardo per il regionale Sestri-Levante che quindi non è ancora passato nemmeno da Chiavari con 18 minuti di ritardo gli altri convogli attualmente in circolazione tra Genova e La Spezia e sulla rete ferroviaria sono preannunciati in orario così anche nella prossima mezz'ora poi c'è l'Intercity 6-5-1 già preannunciato con 9 minuti di ritardo e questo treno dovrebbe essere sul nostro tratto tra le 8.20 e le 8.45 oggi con 9 minuti di ritardo noi invece non accumuliamo ritardo andiamo speditamente a vedere la prima pagina di Avvenire di oggi è una pagina con molti titoli non c'è un unico grosso titolo a tutta pagina e quindi andiamo a scoprire da una parte forse anche volutamente Avvenire ha messo questa foto che già avevamo visto di questa suora inginocchiata proprio verso i soldati anche i soldati alcuni di loro si mettono in ginocchio e il Papa ieri ha proprio citato questa foto dicendo mi inginocchio per la pace in Myanmar anch'io mi inginocchio per la pace in Myanmar proprio alludendo a questa suora che era stata più volte fotografata andava proprio lei in giro da sola per le strade di questo martoriato paese asiatico proprio implorando la pace ai soldati e dall'altra parte Biden che accende un nuovo sussulto di guerra anche se di guerra fredda si tratta e ce l'ha con Biden intervistato da un noto anchorman americano dice proprio Putin è un assassino gli chiede proprio è un killer usa la parola killer che noi conosciamo bene è entrata anche nel nostro vocabolario e Biden dice sì lo è è un killer Putin assassino guerra fredda tra Stati Uniti e Russia il presidente attacca sulle interferenze nelle elezioni e Mosca da parte sua richiama l'ambasciatore degli Stati Uniti appunto in Russia da Francesco ha corato appello contro la violenza quindi evidentemente si è voluto mettere nella stessa parte della pagina queste due notizie proprio per far capire che c'è chi lavora per la pace e chi chiede la pace e chi in questo momento soffia un po' il fuoco della guerra anche se guerra fredda si tratta però sappiamo bene perché lo abbiamo vissuto un po' sulla nostra pelle e un po' anche sulla pelle dei nostri genitori che cosa vuol dire quando due superpotenze come Stati Uniti e Russia entrano in conflitto un pass per tornare a viaggiare l'organismo diciamo superiore di questa vicenda cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice molti più benefici che rischi per AstraZeneca si prospetta il via libera però oggi si attende il pronunciamento dell'EMA che ormai mi sembra abbastanza scontato un ruolo maggiore nelle vaccinazioni farmacie e infermieri balzo dei ricoveri Draghi oggi sarà a Bergamo perché oggi è stata proclamata la giornata in ricordo di tutte le vittime del covid e appunto il premier il capo del governo sarà a Bergamo che è la città simbolo perché ricorderete proprio un anno fa come oggi c'era quella famosa carovana di camion militari con dentro le bare dei tantissimi deceduti per covid assolti i manager dell'ENI non ci fu corruzione internazionale in Nigeria sentenza di primo grado il fatto non sussiste si chiude così con l'assoluzione di tutti gli imputati il processo per corruzione internazionale c'era in ballo almeno stando alle accuse una tangente di addirittura 2 o 3 miliardi c'era una cosa veramente epocale il virus ha ridotto il ceto medio al 27% la pandemia sociale quindi aumenta chiaramente di più il ceto meno abbiente diciamo già in odore di povertà e coloro che hanno invece più soldi rimangono più o meno stabili quello che invece cede è proprio il ceto medio ma pensiamo appunto alle tante persone che non stanno riuscendo a lavorare in questo periodo pensiamo adesso noi siamo turismo di mare quindi pensiamo ai balneatori pensiamo ai ristoratori agli albergatori ma pensiamo al turismo di montagna quest'anno in montagna non ha lavorato nessuno cioè pensiamo ai maestri di sci pensiamo agli addetti agli impianti agli addetti alla ristorazione agli addetti all'ospitalità nessuno ha lavorato e tutto il resto l'indotto il commercio eccetera nelle località di montagna che invece in questi ultimi anni avevano goduto anche di ottimi di ottimi incassi il golpe subito obbliga a scegliere Cina al bivio di Myanmar e qua alla Cina è un po' a guardare anche forse divertendosi questa nuova schermaglia tra Stati Uniti e Russia però deve in qualche modo anche dire qualcosa sul vicino di casa sulla Birmania che in questo momento appunto è sotto legida di un regime totalitarista di origine militare adesso andiamo invece a vedere la prima pagina del secolo XIX e qua troviamo un altro Biden con mascherina che scende dall'elicottero Biden Putin assassino pagherà Mosca richiamo intanto l'ambasciatore lo Zara all'angolo per gli Stati Uniti è la Cina l'unico vero rivale cioè in questo scacchiere internazionale chiaramente ci sono ormai tre superpotenze ma gli Stati Uniti vogliono tirar fuori la Russia da soprattutto delle grosse influenze che la Russia ha avuto in questi anni di presidenza Trump soprattutto in Europa tra l'altro Covid la Liguria prima in Italia vaccinare nelle farmacie Draghi a Bergamo commemora le vittime seconde case stretta in Sardegna cioè se avete la seconda casa in Sardegna non ci si può andare se non avete fatto un tampone negativo intesa con Alisa dal 29 febbraio aperti 50 centri grazie a questa convenzione con le farmacie anticorpi monoclonali iniziano i test ospedalieri e Costa dice accelerare i tempi nelle aree con più anziani a dirlo appunto Andrea Costa sottosegretario alla sanità nel nuovo piano vaccini conterà anche l'età media a scuola per gli invalsi travolti dal silenzio gli umori le ansie le sensazioni degli studenti del Levante in classe alle prese con le prove invalsi e poi andiamo a vedere Carige Carige ufficiale il divorzio con Cassa Centrale Banca questa unione delle banche trentine delle varie casse rurali che c'erano in tutto il Trentino adesso si sono consorziate in questo Cassa Centrale Banca che doveva avere un ruolo centrale appunto nell'acquisizione di alcune quote di maggioranza della Carige ma così non sarà perché Boccuzzi deluso ma si va avanti parla il presidente dell'istituto non c'è niente da fare questo matrimonio come dice non sa da fare e non si farà andiamo a vedere sempre dalla prima pagina del secolo XIX lo stratega di Luna Rossa dopo il KO della scorsa notte cioè di due notti fa avevamo detto ieri che purtroppo la settima vittoria di New Zealand ha messo la pietra tombale sulle speranze italiane di acciufare questa American Cup hanno vinto i più veloci ma abbiamo battagliato sempre d'altronde erano riuscite ad arrivare ad un 3 a 3 dopo sei gare è veramente una grande grande prestazione generazione Z il libro di Fulvia Guazzone ascoltiamo di più i nostri ragazzi e chiediamo quanto sono felici in questo momento credo molto poco i dubbi che agitano alla ricerca del nuovo partner e il commento sulla questione della Carigia abbiamo letto un po' tutta la prima pagina del secolo XIX allora adesso andiamo in particolare a vedere la situazione meteo che ci aspetta per questa e per altre giornate come vedete la copertura nuvolosa sta aumentando quindi da iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso andremo invece a condizioni di cielo nuvoloso piano piano e anche coperto durante poi il resto della giornata perché? perché si sta avvicinando questo fronte molto freddo e in un primo tempo attira anche aria molto umida sul nostro territorio poi passerà addirittura una perturbazione però molto lontana dalla Liguria una perturbazione all'attitudine più basse parliamo di centro-sud Italia e quindi lì ci sarà un weekend piovoso da noi invece il weekend sarà piuttosto asciutto ma con temperature piuttosto rigide anche un pochino sotto la media stagionale del periodo perché in questo periodo ormai dovremmo essere un po' fuori dal punto più freddo dell'anno e invece ci ritroviamo abbastanza dentro quindi abbiamo questo colpo di coda dell'inverno che non è così diciamo raro perché anche l'anno scorso ricordo durante il lockdown avevamo avuto dei giorni con temperature molto basse anzi avevamo avuto i giorni più freddi dell'inverno per dire la verità proprio nei giorni del lockdown quindi eravamo più o meno in questo periodo e poi ricordiamo altre nevicate che sono arrivate addirittura ad aprile quindi insomma fino a metà aprile siamo sempre un po' a rischio di questa situazione di questa invasione di aria fredda in effetti noi vedremo molto calare le temperature ma nel pomeriggio ci potrà essere questa situazione che viene riassunta con questo cartello della Limet vedete che ci sono nuvole un po' sparse su tutta la Liguria ma anche qualche occhiata di sole quindi è una nuvolosità non proprio diciamo appunto uniforme ecco non mi viene uniforme ma sui rilievi la nuvolosità sarà innanzitutto più accentuata ma ci saranno soprattutto delle precipitazioni sui rilievi che sono in particolare le Alpi Liguri e il comparto Aveto Trebbia quindi in questa parte della Liguria cioè quindi o l'estremo ponente o il medio levante avremo delle precipitazioni che saranno nevose al di sopra dei 700 metri quindi una quota cosiddetta collinare 700 metri quindi queste piogge queste nevicate potranno avere degli sconfinamenti anche sul resto dell'entroterra innanzitutto quindi anche Val di Vara anche Val Fontana Buona Val Gravelli eccetera ma potrà avere anche uno sconfinamento sulla costa quindi sulla costa imperiese parliamo proprio della riviera dei fiori e sulla costa anche del nostro comparto quindi il medio levante tanto per capirci anche un po' sullo spezzino qua però saranno solo degli sconfinamenti quindi una pioggia non particolarmente estesa e non dovrebbe essere neanche di lunga durata le precipitazioni maggiori comunque si avranno lo ripetiamo negli entroterra i venti al mattino moderati da nord e poi nel pomeriggio la ventilazione sarà debole da nordeste sui rilievi versanti padanni deboli variabili lungo le cosse con mare generalmente poco mosso e temperature in lieve calo le massime non andranno come avevamo detto prima oltre i 13-14 gradi situazione prevista per domani allora domani sarà un'altra giornata abbastanza interlocutoria con la possibilità di nuvole innanzitutto di qualche pioggia sul comparto Aveto Trebbia che sarà nevosa al di sopra vi abbiamo detto dei 600-700 metri quindi domani addirittura la quota neve si abbassa un pochino però domani è quasi scongiurato il fenomeno degli sconfinamenti quindi le piogge e le nevicate rimarranno confinate soltanto sui rilievi più alti sull'entroterra del Levante mentre invece pioverà di più a Ponente Ponente ci saranno piogge anche di una certa durata per quanto riguarda invece i venti deboli e moderati da nord nord est mare poco mosso al più mosso a largo e temperature in ulteriore lieve calo tanto per farvi capire sabato avremo questo tipo di giornata quindi tutto sommato abbastanza soleggiata qualche precipitazione residua sui rilievi del centro Ponente e le temperature saranno sempre molto basse anzi ancora più basse quindi attenzione a delle notti veramente molto molto fredde andiamo adesso a leggere insieme il secolo XIX nelle pagine del Levante campagna dei vaccini farmacia in campo e disdette AstraZeneca e beh c'è un po' di tutto in questi giorni chiaramente anche un po' di così confusione che sta regnando tra le persone che dovevano essere vaccinate anche la riviera si prepara la svolta si comincerà a fine mese ecco come appunto ci sono tutte le varie spiegazioni di come avverranno queste campagne vaccinali anche con le farmacie quindi gli hub dei luoghi appunto momentanei i famosi spoke ma anche i medici di base e anche le farmacie quindi in effetti sarà una vaccinazione più di massa diciamo così intanto continuano le rinunce dei pazienti per il prodotto anglo-svedese AstraZeneca però ricordiamo che l'AstraZeneca è stato il prodotto di punta della campagna europea quindi ne abbiamo ordinati parecchie dosi e quindi vedremo che cosa succederà ma quasi sicuramente da oggi l'EMA darà il via libera al continuo di queste vaccinazioni vertice tra pretaria e sindacati della CGL Cisle e Wille per fare il punto sulle immunizzazioni affrontata anche la riorganizzazione degli ospedali con focus su Sestri e Rapallo questo è un momento praticamente delicato chiaramente per la sanità abbiamo sempre aumenti anche se diciamo sul nostro territorio sono molto molto diciamo continui ma senza impennate almeno al momento non ci sono impennate nell'aumento di contagi sono sempre appunto più o meno stabili abbiamo detto sono in Liguria tra i 320 380 poche volte abbiamo sconfinato i 400 ogni giorno ed è una curva piuttosto piatta se si può dire così non c'è né un'ascendenza ma neanche purtroppo una discesa e anche i malati negli ospedali aumentano poi diminuiscono adesso siamo di nuovo a quote piuttosto alte 47 ricordiamo che eravamo arrivati a 36 mi sembra 10 giorni fa quindi siamo a 47 i pazienti ospedalizzati a Sestri Levante qualche aumento anche in terapia intensiva 8 in terapia intensiva abbiamo l'80% dei posti occupati 458 le persone attualmente in sorveglianza attiva per contatti con positivi però bisogna dire che ricorderete i nostri reparti covid sarebbero 3 2 a Sestri Levante 1 a Lavagna in questo momento ho utilizzato soltanto un punto a Sestri Levante e non ci sono malati di covid a Lavagna questo è anche importante sottolinearlo sono pronti per le vaccinazioni però servono locali dedicati così parlano i farmacisti che sono tanti perché insomma nel nostro territorio ma un po' tutta Italia così le farmacie sono presenti in ogni piccolo paese anche addirittura nelle frazioni e quindi ci sono ci sono e sono veramente organizzatissime dal punto di vista della vendita dei farmaci ora devono diventare in poco tempo anche organizzate per appunto vaccinare non sarà una cosa semplice non sarà una cosa facile però ci si può riuscire questa è una decisione tra l'altro la Liguria è una delle regioni pilote dove questo viene in qualche modo sperimentato e quindi sarà tutto da imparare da capire cosa potrà succedere faremo le iniezioni in azienda tutti i nostri 200 dipendenti così parla un imprenditore che è particolarmente importante nel settore della ristorazione ovvero Maurizio Tossini che con il fratello Luigi è il proprietario della ditta Tossini che oltre ad avere dei punti vendita dei panifici un po' su tutto il Golfo Paradiso ma anche il Tiguglio Chiavari-Rappallo ha dei punti molto grossi ma è anche un'azienda gastronomica quindi vengono appunto confezionati prodotti che poi vengono venduti anche nella grande distribuzione quindi ha 200 dipendenti e vogliono essere tra i primi imprenditori a vaccinare i loro dipendenti in azienda quello che poi hanno chiesto tutti gli imprenditori e poi questa vicenda noi studenti in classe per le prove invalsi esperienza straniante perché alcuni ragazzi del Marconi del Pino e del Tecnico sono a scuola per un giorno solo silenzio comunque emozionante c'è un deserto perché sono solo le classi principali più grandi e appunto loro sono in classe per fare questa famosa prova invalsi di cui tanto si è parlato anche nei mesi precedenti però sono gli unici ad occupare la scuola e quindi è una situazione un po' particolare una classe per ogni plesso una manciata di studenti per ognuno degli edifici che ospitano i vari indirizzi delle scuole in questione un'esperienza strana dicono appunto i ragazzi della Quinta e poi oggi l'omaggio dei comuni alle vittime Covid come abbiamo detto non ci sarà soltanto l'omaggio di Draghi a Bergamo ma ci sarà l'omaggio anche dei vari sindaci un po' in tutte le cittadine del nostro territorio per esempio appunto a Sestri Levante l'appuntamento sarà alle 10.45 in piazza Matteotti ma anche a Chiavari ci saranno commemorazioni a Palazzo Bianco verrà osservato un minuto di silenzio e lo stesso accadrà a Rapallo a Zoaglio cioè senza manifestazioni magari esterne a Santa Margherita Ligure il sindaco Donadoni sarà presente davanti al municipio in piazza Mazzini per osservare un minuto di silenzio con chiaramente tutti i distanziamenti ma alcuni amministratori usciranno dai comuni e sosteranno magari davanti alla piazza in commemorazione dei defunti mentre invece la manifestazione principale si svolge a Bergamo che è un po' la città simbolo purtroppo delle vittime di Covid purtroppo l'incidente ricorderete di qualche giorno fa in via Franceschi ha un esito piuttosto drammatico e direi quasi ormai ad un unico senso morte cerebrale per l'imprenditore investito il chiaverese Ivo Tiscornia 63enne è ricoverato nel reparto rianimazione del San Martino di Genova i suoi organi saranno donati l'uomo è stato travolto sulle strisce pedonali da una vettura che faceva retromarcia a contromano in via Franceschi a Chiavari e la patente della donna al volante dell'auto è stata ritirata dalla polizia locale insomma una morte di un'altra vittima della strada nel nostro territorio ma appunto di morte cerebrale si parla al momento è chiaro che i parentesi stanno preparando al peggio e poi un'altra vittima questa volta della montagna l'ospedale ha ricordato Elisa l'anestesista precipitata sullo Zatta la tragedia in montagna domenica ne sappiamo ormai tutti i particolari e appunto anche l'ospedale dove Elisa Martina Enrile appunto lavorava ha ricordato il policlinico di San Martino di Genova ha ricordato la ragazza con un minuto di silenzio e con tante lacrime dei suoi colleghi addio anche a Duca Canevaro ha deceduto a Firenze la salma portata a Zoagli molti magari lo hanno conosciuto Emanuele Canevaro l'ultimo Duca di Zoagli che comunque abitava nel suo castello in alcuni momenti purtroppo è deceduto a Firenze ma la sua salma sarà portata appunto a Zoagli e beh la sua vita è legata a doppio filo con il piccolo paese del Tiguglio e qua ci sono state anche nel suo castello parecchie manifestazioni e qua si ricordano per esempio nel 2012 con un concerto di il grande Greg Lake il mitico bassista e cantante dei King Crimson e del famoso trio Emerson Lake and Palmer che proprio nel suo castello di Zoagli nel castello Canevaro ha tenuto un concerto una cosa veramente un po' particolare ricevendo anche la cittadinanza onoraria di Zoagli comunque il per questo appunto il Duca Canevaro sarà riportato poi a Zoagli per diciamo l'ultima l'ultima sua sede poi è scomparso Riccardi ambulante del mercato oggi pomeriggio alle 15.30 nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa in Corso Genova Lavagna il funerale di Roberto Riccardi ambulante 72enne che appunto è deceduto nei giorni scorsi Piazza Mazzini poi c'è una raccolta di sangue straordinaria domenica prossima tra le 8.30 e le 12.30 ma noi adesso lasciamo la linea alla Radio Vaticana per ascoltare insieme il GR delle 8 poi ritorneremo per la seconda edizione tra 10 minuti buona ascolta a tutti giovedì 18 marzo primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana i titoli Papa Francesco anche io mi inginocchio sulle strade del Miamar poi in America Latina con Paraguay e Bolivia in primo piano ancora la pandemia ha teso l'ok del lema per AstraZeneca l'Italia oggi ricorda le 103.000 vittime del Covid infine l'alta tensione tra Stati Uniti e Russia dopo un'intervista rilasciata da Joe Biden sono le 8 buongiorno da Andrea De Angelis in ginocchio e con le braccia tese così che il Papa ieri al termine dell'udienza generale è tornato ad invocare pace e dialogo per il Miamar che dal primo febbraio scorso dopo il golpe militare vive un escalation di violenza che ha già causato circa 200 morti il servizio di Gabriella Ceraso come la piccola Soran Nhu Thuang la Saveriana che inginocchiata per le vie del Miamar implora i soldati di non sparare sui giovani così Papa Francesco scende oggi idealmente per le strade del paese asiatico a fianco al suo popolo per chiedere con tristezza nel cuore lo stop della violenza sento l'urgenza di evocare la drammatica situazione in Miamar dove tante persone soprattutto giovani stanno perdendo la vita per offrire speranza al loro paese fin dal 7 febbraio la voce di Francesco si è elevata e ad essa si è unita alla preghiera della Chiesa dell'Asia e del mondo e poi lo sgomento espresso dall'ONU l'invito della comunità internazionale a proteggere il popolo birmano mentre continua la detenzione della lidera Aung San Suu Kyi oggi la voce di Francesco è ancora più forte anche io mi inginocchio sulle strade del Miamar e dico cessi la violenza anche io stendo le mie braccia e dico prevarga il dialogo il sangue non risolve niente la violenza è autodistruttiva insieme al Miamar Francesco all'udienza generale ha espresso tutta la sua preoccupazione anche per il Paraguay teatro di proteste antigovernative per la gestione dell'emergenza Covid ascoltiamo per intercessione di Nostra Signora dei Miracoli di Cacupè chiedo al Signore Gesù Principe della Pace che si percorra un cammino di dialogo sincero per trovare soluzioni adeguate alle difficoltà attuali e costruire così insieme la pace tanto desiderata ricordiamoci che la violenza è sempre autodistruttiva attraverso di essa non si guadagna nulla ma si perde molto e a volte tutto per comprare molto e a volte è tutto Per comprendere quanto sta accadendo in queste ore in Paraguay abbiamo sentito Alfredo Luis Somoza giornalista esperto di America Latina Quello che è venuto fuori in questi giorni è che il governo ha parito al COVAX se quel meccanismo di vaccino a vasso costo di Nazioni Unite con dietro Nazioni Unite eccetera dovevano pagare anticipatamente il 25% hanno fatto il bonifico ma è sentato fuori che hanno sbagliato a chi pagare ce l'hanno mandato su un altro conto quindi in sostanza in Paraguay al momento sono arrivati soltanto 23-24 mila vaccini che gli ha regalato il Cile questo appunto è scoppiato il finimondo i sindacati i contadini che la sono molto organizzati i studenti stanno chiedendo 48 ore le dimissioni del presidente e del vicepresidente e il paese si trova praticamente l'unico uno dei pochi paesi del mondo dove non c'è una vaccinazione in corso perché non c'è un vaccino torneremo in chiusura a parlare di America Latina ora la pandemia di Covid-19 è atteso oggi il verdetto dell'EMA circa la sicurezza del vaccino AstraZeneca con l'OMS che continua la raccomandazione di non sospenderne l'uso in Italia si celebra intanto la prima giornata in memoria delle vittime del Covid Francesca Sabatinelli occhi puntati su Amsterdam da dove l'EMA oggi si pronuncerà sulla sicurezza dell'AstraZeneca e sull'opportunità di continuarne l'inoculazione che l'OMS continua fortemente a sostenere intanto l'Unione Europea ragiona su una stretta sull'export dei vaccini verso il Regno Unito e presenta il Covid Pass che permetterà ai cittadini europei vaccinati negativi o guariti di tornare a viaggiare entro fine estate promette inoltre la Presidente della Commissione von der Leyen obiettivo sarà di aver vaccinato il 70% della popolazione adulta e mentre in Brasile il record di decessi 3.024 ore con un totale di oltre 280.000 morti in un anno che supera quello delle vittime di AIDS in 23 anni oggi l'Italia celebra la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid bandiere a mezzasta e un minuto di silenzio in tutto il paese che vedrà il capo del governo Draghi alla cerimonia a Bergamo la città più colpita nella prima ondata Voltiamo pagina alta tensione tra Russia e Stati Uniti dopo che il Presidente americano Joe Biden ha affermato in un'intervista televisiva di ritenere il Presidente russo Vladimir Putin un assassino Mosca ha richiamato il suo ambasciatore negli USA per consultazioni ma il Ministero degli Esteri Russo si dice interessato a prevenire un degrado irreversibile nei rapporti sentiamo Marco Guerra Lei conosce Putin e pensa che sia un assassino a questa domanda rivolta dall'intervistatore di ABC Biden ha risposto si lo penso aggiungendo che il leader del Cremlino pagherà un prezzo per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali del 2020 Biden lascia però spiraglia la cooperazione su questioni cruciali come gli accordi sugli armamenti i commenti dell'inquilino della Casa Bianca arrivano all'indomani della diffusione del rapporto dell'intelligence USA secondo cui Putin autorizzò le operazioni per denigrare Biden a aiutare il suo rivale Trump immediate le reazioni dalla Russia Putin è il nostro Presidente e gli attacchi contro di lui sono attacchi alla Russia è la replica del Presidente della Duma più cauto il portavoce del Ministro degli Esteri la cosa principale afferma è capire se si possono migliorare le relazioni russo-americane che sono in una condizione difficile i missili balistici e nucleari nordcoreani sono una priorità per USA e Corea del Sud avendo l'impegno condiviso ad affrontare e risolvere la questione la dichiarazione congiunta al termine del 2 più 2 il meeting di Seoul tra i ministri degli esteri e della difesa sudcoreani e le controparti americane ha rimarcato dunque l'impegno dei due paesi ad opporsi ad ogni attività che destabilizza le regole internazionali l'espulsione dei migranti ai tieni dagli Stati Uniti abbia immediatamente fine questo l'accorato appello dell'arcivesco di Miami Monsignor Thomas Wenski dopo che 72 persone tra cui 22 bambini sono stati rimpatriati forzatamente sull'isola dalla polizia per l'immigrazione ci spostiamo nel continente africano ancora violenze in Niger nei giorni scorsi gruppi armati hanno ucciso oltre 50 civili nel corso di diversi attacchi a un autobus ad alcuni villaggi nella regione di Tila Berì al confine con Mali e Burkina Faso Elvira Aragosta ha raggiunto telefonicamente Morena Zucchelli capo missione di Copi nel paese Gli attacchi sono più violenti in questo periodo perché deve finire il processo elettorale fanno comunque seguito a un grosso problema dello Stato islamico questo continua un po' nella logica della destabilizzare il paese e sono tutti attacchi che vengono in questo caso dal Mali non sono ancora stati rivendicati ufficialmente Perché vengono colpiti i civili? A volte sono proprio perché hanno dato l'indicazione di non andare a votare e la popolazione è andata a votare oppure perché hanno riaperto una scuola e i gruppi armati non vogliono che si riaprano le scuole che fanno una formazione all'occidentale ma normalmente sono proprio legati a pagamenti di fondi che i gruppi armati devono ricevere da parte delle popolazioni per poter essere lasciati in pace Un terremoto di manitudo 6.2 è stato registrato all'una di questa notte a largo dell'Algeria non si registrano vittime o danni afferma la protezione civile del paese africano la scossa è stata avvertita anche in Italia specialmente in Sardegna e torniamo come promesso in America Latina l'arresto dell'ex presidente ad interim della Bolivia Giannina Agnez ha riacuito le tensioni politiche nel paese diviso tra i sostenitori della tesi governativa del colpo di Stato e di chi come i vescovi boliviani sottolinano invece l'importanza della separazione tra potere politico e giudiziario per il servizio di Michele Raviardo c'è democrazia solo se l'indipendenza del sistema giudiziario è rispettata e non è soggetta all'interesse politico del governo al potere ad alzare la voce a nome di tutti i vescovi boliviani e Monsignor Riccardo Santegas presidente della conferenza episcopale nel paese commentando i recenti arresti l'accusa del governo guidato da Luis Arce è che le dimissioni di Morales nel 2019 quando fuggì all'estero in un clima di proteste dei cittadini boliviani e di accuse di frode siano state un colpo di Stato imposto dai militari che avrebbero poi favorito il governo di Agnez non si tratta di vendetta dice il governo ma di una ricerca di giustizia per le morti dei civili durante le proteste di quell'anno arresti che per i vescovi invece non tengono conto delle garanzie costituzionali minime e della presunzione di innocenza spiega Monsignore Eugenio Cotter vicario apostolico di Pando nel nord del paese gli arresti di cui abbiamo visto in questi giorni sono un pessimo assegnale di questa degenerazione dei diritti democratici e dei diritti civili della gente è tutto per ora vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News da Andrea De Angelis in regia da Mario Scattone grazie per l'ascolto tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi ancora buona giornata da parte di Marco Revello e ben ritornati negli studi di Teleradio Pace per questa seconda edizione del Tg Rassegna Stampa in questo 18 di marzo 2021 da oggi e per sempre insomma questa sarà anche la giornata di ricordo delle vittime del covid è stata proclamata proprio a un anno di distanza da quelle immagini che abbiamo stampate nella mente a parte che sono state riproposte più volte nelle varie televisioni ma abbiamo stampato nella mente la coda dei camion militari che trasportavano le salme delle vittime di covid a Bergamo città duramente colpita nella prima ondata e purtroppo nuovamente colpita in questa terza ondata un po' meno nella seconda era stata abbastanza risparmiata adesso invece sono nuovamente tanti i contagiati da covid e quindi ad un anno di distanza ieri abbiamo avuto circa 400 vittime o qualcosa di più di 400 vittime e ogni giorno purtroppo il bollettino di coloro che ci lasciano appunto per le conseguenze del covid è sempre troppo troppo numeroso come sapete l'Italia è una delle nazioni dove per prima si è iniziata a morire molto pesantemente di covid poi ci hanno battuto altre nazioni che sono arrivate ben dopo l'Italia tra cui la Gran Bretagna sicuramente ma anche altre nazioni europee oggi si ricordano le vittime del covid lo si fa con una manifestazione ufficiale di stato e alla presenza del premier Draghi a Bergamo ma si fa un po' in tutti i comuni come leggeremo tra poco sui quotidiani oggi però è una giornata in cui la chiesa ricorda e festeggia anche San Cirillo di Gerusalemme vescovo e dottore della chiesa che nacque appunto a Gerusalemme nel 314 dopo Cristo e poi andiamo ad altri santi ricordati oggi San Salvatore de Horta Francescano San Edoardo secondo il martire re d'Inghilterra San Alessandro di Gerusalemme vescovo e martire Beata Marta Le Burtaglie religiosa San Braulio vescovo Beata Celestina Donati fondatrice San Anselmo secondo di Lucca vescovo San Frediano di Lucca vescovo a lui è dedicata veramente la forza la più bella una delle più belle comunque chiese di Lucca nel centro storico e poi Beati Giovanni Tulse e Ruggero Vrenno Martire San Leopardo di Tur e Remita auguri a tutti coloro che oggi festeggiano l'onomastico il compleanno una lieta ricorrenza per cui appunto questo 18 marzo è una giornata speciale e prima di entrare a leggere i quotidiani possiamo anche darvi le notizie di traffico purtroppo continuano nelle prime ore del mattino e le notizie di traffico molto intenso sulla 12 questa mattina abbiamo code tra Recco e Chiavari un chilometro di code in direzione Rosignano e altrettanto chilometri un chilometro di coda in direzione Genova poi abbiamo come sempre anche la coda nella parte finale della 12 verso appunto l'allacciamento con l'A7 che sapete è in un'unica direzione cioè verso Genova Ovest e non si può più girare per Milano e quindi qua si verificano code e stringimenti quindi coda di due chilometri tra Genova S e l'allacciamento A7 A12 questa è una notizia attiva al momento sulle autostrade della nostra regione in particolare appunto sulla nostra autostrada quella del Levante e per quanto riguarda il meteo beh vediamo oggi la giornata si apre con cielo un po' sereno da questa parte appunto verso Levante vediamo ancora cielo sereno con una bella luce il sole eccetera dall'altra parte invece verso Ponente ecco vediamo già l'insorgere di altre cose cioè sono delle coperture nuvolose al momento sono delle velature piuttosto alte ma poi nel corso della giornata la nuvolosità aumenta e soprattutto negli entroterra si potranno avere anche delle precipitazioni precipitazioni che nel corso del pomeriggio diventeranno nevose al di sopra dei 700-800 metri quindi siamo a quote abbastanza basse e interesseranno quindi anche il nostro comparto appenninico cioè quello aveto trebbia e qua ci saranno delle nevicate piuttosto copiose le piogge potranno sconfinare anche nel resto dell'entroterra quindi nelle altre vallate ma raggiungere anche la costa lievemente marginalmente quindi potremo avere un pomeriggio con qualche precipitazione qui sul Levante e anche nell'Imperiese per il resto della regione il tempo sarà abbastanza asciutto però sarà l'unico episodio diciamo di maltempo legato a questa discesa di aria molto fredda che da oggi inizierà ad interessare la nostra regione quindi aspettiamoci comunque un fine settimana piuttosto stabile come il meteo non avremo piogge avremo cielo sereno poco nuvoloso qualche nuvola di passaggio ma soprattutto freddo quindi attenzione perché dobbiamo coprirci nuovamente adesso invece passiamo a leggere i quotidiani le dico la questa mattina come sapete ieri in un'intervista così tra l'usco e il brusco come si dice Biden ha sganciato una bella bomba una bomba che insomma si sapeva che prima o poi sarebbe stata lanciata da Biden nei confronti dell'omologo russo Putin perché sappiamo che Putin aveva delle grosse simpatie per l'avversario di Biden ovvero Trump insomma è abbastanza risaputo questo e infatti oggi su Avvenire troviamo Biden dice Putin è un assassino guerra fredda Stati Uniti Russia si ritorna alla tensione la grande tensione con la minaccia anche di armi nucleari non lo sappiamo intanto il presidente attacca sulle interferenze nelle elezioni Mosca richiama in patria l'ambasciatore appunto americano c'è in America da Francesco invece l'accorato appello contro la violenza cioè nello stesso giorno parole di guerra e parole di pace e il Papa ha detto mi incinocchio per la pace in Myanmar e subito a tutti è venuta in mente questa immagine della suora in Bermania che si inginocchia davanti ai militari e alcuni militari anche loro si inginocchiano in preghiera insieme alla suora e questa è la situazione di Myanmar che sapete è molto incandescente il Papa ieri ne ha parlato proprio durante l'udienza generale che poi sapete che non è un'udienza in quanto è una catechesi che si svolge nella libreria perché sapete nella biblioteca scusate perché sapete che in questo momento è sospesa è sospesa l'udienza generale con il pubblico con il popolo un pass per tornare a viaggiare l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice molti più benefici che rischi per AstraZeneca si prospetta il via libera un ruolo maggiore nelle vaccinazioni a farmacie e infermieri balzo dei ricoveri oggi Draghi appunto sarà a Bergamo e poi sul processo quella che era stata nominata come la madre di tutte le tangenti una maxi tangente addirittura più di un miliardo di euro assolti i manager Eni non ci fu corruzione internazionale in Nigeria il fatto non sussiste si chiude così con la soluzione di tutti gli imputati il processo per corruzione internazionale questa è la sentenza di primo grado il virus ha ridotto il ceto medio del 27 al 27% la pandemia sociale quindi è un contagio diciamo della povertà in pratica che sta purtroppo attecchendo e attaccando anche delle fasce di popolazione che era diciamo quelli abbastanza benestanti il famoso ceto medio si tratta sicuramente di imprenditori legati al turismo alla ristorazione al commercio al terziario in genere che in questa pandemia è stata la vittima economica il golpe subito obbliga a scegliere Cinalbivio di Myanmar l'editoriale a firma di Pio De Lier di Emilia e adesso andiamo invece alla prima pagina del secolo XIX di oggi Covid la Liguria prima in Italia vaccinare nelle farmacie Draghi a Bergamo commemora le vittime seconde case strette in Sardegna intesa con la Alisa dal 29 febbraio aperti 50 centri anticorpi monoclonali iniziano i test ospedalieri Costa il sottosegretario della sanità Andrea Costa dice accelerare i tempi nelle aree con più anziani quindi la Liguria sicuramente è una di queste nel Tiguglio a scuola per gli invalsi stravolti anzi travolti dal silenzio soltanto ragazzi delle quinte classi sono entrati una classe alla volta nei plessi scolastici per fare questa prova invalsi e poi ancora pubblico impiego perché servono i dottori di ricerca l'intervento di Luigi Nicolaise e poi c'è la vicenda internazionale le accuse di Putin alla domanda ma scusate le accuse di Biden a Putin alla domanda ma Putin è un killer cioè proprio un killer tipo donato binancia e appunto Biden dice sì lo è Biden appunto dice Putin assassino pagherà Mosca e pagherà per quello che ha fatto e Mosca intanto richiama l'ambasciatore lo zar all'angolo per gli Stati Uniti è la Cina l'unico vero rivale l'analisi Gianni Riotto quindi insomma si vuole mettere fuori gioco la Russia per giocare poi la partita decisiva con la Cina secondo quanti sono gli osservatori internazionali d'altronde gli Stati Uniti di Trump erano un po' marginali nella politica internazionale per non dire quasi assenti e poi andiamo invece a non torniamo ad avvenire andiamo invece ad avvedere la situazione della Carigie nuovamente la Carigie è senza partner sapete che la Carigie in qualche modo cerca una partnership forte per continuare ad esistere e anche addirittura a svilupparsi però non sa da fare il matrimonio con Cassa Centrale Banca che è l'insieme delle casse rurali delle banche popolari del Trentino quindi una zona particolarmente ricca che insomma poteva venire in aiuto della Carigie è ufficiale il divorzio da Cassa Centrale Banca Bocuzzi presidente dell'istituto dice sono deluso ma si va avanti e il commento siamo di nuovo a venire oggi a venire vuole tornare protagonista e il commento di Francesco Ferrari i dubbi che agitano la ricerca del nuovo partner ancora sulla prima pagina del secolo XIX troviamo si bello hanno vinto i più veloci ma abbiamo sbagliato ma abbiamo battagliato sempre parlano appunto da Luna Rossa e lo stratega dopo il KO del 7 a 3 però insomma vogliamo ricordare che Luna Rossa ha ben saputo resistere nelle prime 6 gare portandosi a casa un 3 a 3 importante che poi purtroppo in una notte è stato un po' fumato però insomma ha resistito finché ha potuto Generazione Z il libro di Fulvio Aguazzone ascoltiamo di più i nostri ragazzi e chiediamoci quanto sono felici va bene questa è la prima pagina del secolo XIX ma è chiaro la questione che ha tenuto e tiene anche oggi destra l'attenzione sempre sui vaccini oggi dovrebbe arrivare la dichiarazione ufficiale dell'EMA sulla possibilità che il vaccino AstraZeneca sia appunto responsabile di queste morti di queste trombosi che si sono avute appunto in alcuni casi dopo la somministrazione cioè se c'è qualcosa che non va in questo vaccino è quasi scontato ormai perché tutti ne hanno parlato molto è quasi scontato il via libera dell'EMA che l'ha già dato una volta quindi non si capisce perché adesso dovrebbe tornare indietro sui suoi passi ma comunque la sospensione non solo in Italia ma anche in Germania Spagna e Francia della somministrazione di questo farmaco di questo vaccino dovrebbe comunque terminare oggi quindi da domani dovrebbero riprendere le vaccinazioni anche di AstraZeneca chiaramente si è in attesa di questo pronunciamento e intanto ci si organizza per la seconda fase della vaccinazione questa prima fase è andata molto a rilento per i quantitativi di vaccino molto limitati che sono giunti in Italia nella seconda metà onze nel secondo trimestre del 2021 dovrebbero arrivare più del doppio ma anche forse più del quadruplo di quantitativi di vaccino arrivati fino ad oggi e quindi bisogna organizzare bene la vaccinazione e la regione Liguria è la prima o una delle prime a chiamare in causa le farmacie campagna dei vaccini farmacie in campo e disdette AstraZeneca anche la riviera si prepara alla svolta si comincerà a fine mese e intanto continuano le rinunce dei pazienti che non vogliono essere vaccinati con il prodotto anglo-svedese vertice tra Petralia i sindacati CGL e Cisleville per fare il punto sulle immunizzazioni affrontata anche la riorganizzazione degli ospedali con focus su Sestri Levante e su Rapallo però la vicenda delle farmacie d'essa molta curiosità insomma si potrà andare in farmacia ed essere vaccinati pronti alle vaccinazioni però servono anche i locali dedicati per far questo lo dicono i farmacisti che alcuni dei quali hanno dei locali molto piccoli e completamente occupati dal reparto vendita o dai magazzini quindi come faranno dove sistemeranno le persone a vaccinare questi sono tutti interrogativi che andranno sicuramente risolti ma intanto la notizia è che si lavora per questa soluzione si lavora per andare incontro ad una vaccinazione veramente capillare e di massa sentiamo appunto su questo argomento la voce di un farmacista c'è un accordo preventivo ma i dettagli sono ancora tutti da definire Regione Liguria ha annunciato che dal 29 marzo inizieranno le vaccinazioni anti-covid all'interno delle farmacie per potenziare la capacità giornaliera di somministrazione i farmacisti si occuperanno di tutta la parte logistica prenotare gli appuntamenti fornire gli spazi e frazionare le dosi i medici di medicina generale faranno le iniezioni i flacconi del vaccino sono flacconi da 5 cm3 e quindi ci sono 10 dosi il farmacista ha il compito di frazionare queste dosi e di porgiare al medico per fare la vaccinazione le farmacie gestiranno le dosi di AstraZeneca e di Johnson & Johnson una volta che sarà approvato gli unici finora conservabili in normali frigoriferi i protocolli sono ancora da definire e gli incontri tra Federfarm e Regione proseguono in particolare i farmacisti chiedono con che modalità dovrà avvenire il frazionamento delle dosi e come dovranno essere adeguati i locali con spazi per l'attesa pre e post vaccinazione stabiliti i protocolli si potrà sapere quante farmacie potranno aderire è un sistema che deve ancora essere messo in pista per quel che posso pensare io il 29 marzo indicato dalla Regione mi sembra un tempo molto molto stretto perché se anche uno deve adeguare i locali con le poltrone i lettini o tutte queste cose qua non è una cosa che si fa in due giorni i farmacisti chiedono anche che sia siglato un accordo sulle responsabilità di tipo assicurativo legate sia alla gestione che alla somministrazione In questo momento noi già abbiamo delle assicurazioni che coprono i dipendenti per il covid bisognerà vedere se si potrà allargare questa assicurazione anche a chi si occupa dei vaccini quindi questo è una cosa importante Il Presidente di Regione Giovanni Totti ha detto di attendersi l'adesione di 50 farmacie in Liguria è che il sistema una volta a regime porterà dalle 2.500 alle 3.000 vaccinazioni Il rapporto sarebbe di un centinaio di dosi al giorno in ogni negozio domeniche escluse Allora noi ritorniamo sul secolo XIX e qualcuno appunto in particolare tutti gli imprenditori vorrebbero che le vaccinazioni avvenissero anche nei luoghi di lavoro è stata una richiesta ufficiale degli imprenditori soprattutto di coloro che hanno i grossi stabilimenti Arinox Elex nel nostro territorio però anche le aziende medio-grandi si stanno organizzando per poter vaccinare al loro interno i loro dipendenti e oggi il secolo riporta anche l'imprenditore Maurizio Tossini che con il fratello Luigi è il titolare appunto dell'azienda Tossini che ha diversi punti vendita anche sul nostro territorio ma soprattutto produzione di prodotti gastronomici e faremo le iniezioni in azienda a tutti i nostri 200 dipendenti quindi si stanno già organizzando e poi nella giornata di ieri sono iniziati i cosiddetti esami invalsi le prove invalsi e alcune classi dei vari istituti sono entrati una alla volta nei plessi vuoti che in questi giorni sapete che le scuole superiori sono in didattica a distanza alcuni ragazzi del Marconi del Pino del Tecnico a scuola per un giorno solo in silenzio comunque è stato emozionante la prof dice ma che deserto è un'esperienza anche questa particolare vissuta dai ragazzi delle scuole quinte e poi come detto oggi è la giornata delle vittime del covid dell'omaggio di Draghi a Bergamo ma nel loro piccolo nel loro comune anche i sindaci del nostro territorio faranno un analogo appunto momento di omaggio alle vittime del covid alle 10.45 in piazza Matteotti a Sestri Levante ma anche a Chiavari in Palazzo Bianco c'è la sede del comune a Rapallo Zoagli e a Santa Margherita dove il sindaco Paolo Donadoni scenderà davanti al municipio in piazza Mazzini per osservare anche lui un minuto di silenzio quindi nessuna manifestazione diciamo ufficiale però questi momenti di raccoglimento in forma comunque non privata ma ufficiale da parte dei sindaci del territorio degli amministratori beh adesso ci colleghiamo in redazione dove vediamo già pronto per noi Andrea Capitani buongiorno Andrea buongiorno Marco buongiorno a tutti rimaniamo in tema di politica amministrativa legata sempre anche al discorso vaccinazioni perché stiamo a Chiavari perché il comune ha rinnovato il protocollo d'intesa con diverse associazioni di volontariato in particolare tre ovvero il Radio Club Levante la Croce Verde Chiavarese e l'Associazione Nazionale Carabinieri proprio quest'ultima i volontari saranno impiegati per gestire il flusso delle persone che andranno a vaccinarsi all'auditorium San Francesco qui infatti la ASL ha intenzione di potenziare le linee di vaccinazione al momento sono in tre in contemporanea e avranno raddoppiati questo quello che ha annunciato la ASL in conferenza dei sindaci quindi ci sarà un maggiore afflusso di persone all'interno dei locali del locale dell'auditorium San Francesco e per gestirli saranno chiamati anche in aiuto i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri tutte le altre realtà comunque non saranno escluse e continueranno a svolgere il loro ruolo in città per aiutare in diversi aspetti dal controllo delle spiagge in questa estate anche come lo scorso anno verranno utilizzati i volontari per evitare gli assembramenti ma anche tutti i giorni i volontari aiutano i ragazzi ad attraversare negli attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole apriranno e continueranno poi ad aprire i parchi cittadini e quant'altro ne abbiamo parlato con il sindaco un protocollo che viene d'intesa che viene rinnovato per un ulteriore anno per una maggiore coinvolgimento comunque di queste realtà nel tessuto sociale cittadino vediamo il servizio la collaborazione con l'amministrazione nella gestione delle alerte a meteo ma anche i compiti quotidiani come le aperture dei parchi cittadini il presidio degli attraversamenti pedonali in orario scolastico il controllo del rispetto delle norme anti assembramento e in ultimo la gestione dei flussi di persone nel lab vaccinale dell'auditorio San Francesco il comune di Chiavari ha rinnovato per tutto il 2021 la convenzione con le tre associazioni di protezione civile e volontariato del territorio la Croce Verde Chiavarese il Radio Club Levante e l'Associazione Nazionale Carabinieri per tutto l'anno 2021 affiancheranno l'amministrazione comunale nella gestione dell'alerte meteo nell'apertura dei COC ma anche per tutti i monitoraggi che dobbiamo fare soprattutto anche sia adesso nella campagna vaccinazione ma anche per i controlli che verranno fatti quest'estate come la passata per le spiagge sicure con l'Associazione Nazionale Carabinieri tutti i pattugliamenti che vengono fatti per evitare assembramenti una collaborazione che è stata particolarmente apprezzata anche nella gestione degli ingressi delle scuole con il distanziamento e quant'altro è stato confermato comunque questa attività questa attività viene confermata anche quella dell'apertura dei parchi e giardini sempre con la Croce Verde un grande ausilio per la sicurezza di tutti noi significhiamo tutti i giochi i giochi pubblici i parchi ogni giorno facciamo anche l'apertura dei bagni pubblici dal primo di marzo fino a fine anno saranno aperti e saranno presidiati con le igienizzazioni previste dalla legge per la sanificazione di tutti questi locali un impegno di circa 46 mila euro saranno anche controlli non sempre si rispetta la disciplina anti contagio con assembramenti e quant'altro in questo caso l'associazione nazionale Carabinieri scendereà in campo per garantire il rispetto di queste disposizioni sì scendereà in campo per garantire rispetto di queste disposizioni invitando la cittadinanza a rispettare le norme faranno pattugliamenti anche durante il mercato settimanale con i mercati quelli mensili qualora si possano svolgere in base alle condizioni delle zone gialle o rosse o arancioni che si susseguiranno nel futuro E allora rimaniamo a Chiavari ma ritorniamo sul secolo XIX credito del comune sbloccato il Viminale pagherà gli arretrati perché insomma le cose che si vivono tra privati e le varie contenziosi per il pagamento dell'affitto eccetera si vivono spesso anche tra pezzi dello Stato cioè tra comuni e stati tra regioni e province eccetera canoni di locazione dell'edificio in ristrutturazione che ospita la polizia di Stato traversi intercede per Palazzo Bianco noi confronti del Ministero Moroso e quindi arriveranno i cannoni arretrati l'ex sottosegretario ho raccolto l'appello e chiesto aiuto all'allora Vice Ministro Crimi e quindi qualcosa si è mosso finalmente arriveranno questi soldi che non sono pochi 180 mila euro che il Ministero della Giustizia aveva appunto non aveva mai riscosso il comune di Chiavari e poi ancora Filcams CGL chiarezza nell'appalto ristorazione della casa dei marinai lo chiedono appunto i sindacati e ancora erogazione bonus affitti fondi in arrivo e proteste sui ritardi sia a Chiavari che a Recco come vedete spesso appunto si fanno i bandi di distanziamenti poi magari non arrivano i soldi proprio fisicamente festa della primavera falò trasmesso sul web quest'anno a Santa Margherita domani è San Giuseppe quindi il falò di San Giuseppe tradizionalmente spostato la prima domenica successiva quest'anno sarebbe proprio il 20 di marzo ci sarà ma non sarà non sarà possibile andarlo a vedere dal vivo pubblicamente perché sarà fatto anche in orari serali quindi in orari che poi ci saranno anche i coprifuoco eccetera e quindi si potrà seguire sul web e questo verrà comunque verrà comunque fatto con l'alluminea da Gea cioè della Ghiaia il quartiere di Santa Margherita in cui viene appunto fatto questo falò e questa festa che chiaramente quest'anno non avrà il normale svolgimento quindi non ci sarà sicuramente la distribuzione delle frittelle e quant'altro biblioteca fasce cambio di orario a Sestri Levante e poi pastorale giovanese doppio appuntamento l'avevamo anche visto ieri su Avvenire la pastorale giovanile invita tutti i ragazzi mercoledì 24 marzo alle ore 21 a collegarsi sulla sua pagina di Youtube per seguire in diretta l'incontro con padre Bernardo Gianni Monaco seguitissimo sui social network e poi domenica alle ore 18 domenica 28 marzo però alle ore 18 lavoro di condivisione riflessione e personale sul tema proposto quindi 24 e 28 marzo due appuntamenti per tutti i ragazzi organizzato appunto dalla pastorale giovanile della diocesi di Chiavari naturalmente anche questo viene fatto online e non di persona per le famose normative poi crollo del cimitero di Camogli andiamo a vedere le notizie che oggi riporta il secolo su questo tristissimo fatto nuovi loculi prefabbricati un elicottero trasporta il materiale il programma dei lavori messaggi di solidarietà al sindaco lettera del comitato a Donadoni e Marenco il parco di Portofino e appunto il comitato è quello che tutti per il parco guidato da Alberto Girani già direttore dell'ente che torna all'attacco con una lettera aperta cosa è stato fatto durante il commissariamento per la riapertura alla gestione della locanda del parco a San Fruttuoso per l'acquisizione della casa dell'arco si chiede appunto il comitato e poi l'omaggio di Bizzarri al regista Sciacca Luga sul bando social Luca Bizzarri il famoso Luca di Luca e Paolo sarà appunto domani da domani in poi sul sito dell'associazione il bandolo di Chiaveri e parlerà soprattutto di Marco Sciacca Luga regista in forza al teatro stabile di Genova per tantissimi anni insomma ha fatto la storia di questi ultimi 50 anni di teatro a Genova che purtroppo è mancato nei giorni scorsi Gratte Vinci 10.000 euro a Santa Margherita Ligure e poi risotto all'economica domani la conversazione sugli errori di Dante perché Dante nella sua vita ha fatto anche qualche errore quindi è giusto anche metterlo in risalto anche questo incontro naturalmente sarà online e appunto si potrà seguire sul sito appunto www.ladadegenova.it e poi ancora una foto molto bella con la Baia del Silenzio spot pubblicitario girato nella Baia beh sempre teatro diciamo cornice per numerose filmati e chiaramente una delle spiagge più amate d'Italia code per cantieri un'ora da Chiavari a Recco purtroppo da Chiavari a Nervi scusate purtroppo anche questa mattina si stanno verificando queste code in A12 tratta gratuita Bolzanetto Genova Est pagamento al 50% fino a Rapallo poi tarifa intera spunta alla class action di diverse associazioni tra cui naturalmente anche qua nel nostro territorio per ottenere quanto meno appunto la possibilità di non pagare il pedaggio e poi anche per i danni che questa situazione sta causando all'intero territorio e poi ancora sopra la croce ok ancora senso unico invece alla scoglina quindi ritorna completamente agibile la strada per sopra la croce appunto in Valle Sturla mentre invece alla scoglina ancora senso unico per quella caduta di questo masso piuttosto grosso che vediamo nella foto e c'è lo spazio per passaggio delle auto però si continua anche a lavorare sul versante per metterlo maggiormente in sicurezza Santa Portofino lavori sulla strada anche a Pasqua anche perché Pasqua comunque sarà in zona rossa per tutti noi e quindi gli spostamenti dai per la riviera saranno veramente molto molto pochi Antonio Panella inventa il teatro postale direttamente sulla tua mail e beh insomma gli attori e diciamo così i cantanti e tutti coloro che operano nel mondo dello spettacolo devono fare in modo di continuare la loro attività senza poter fare eventi live con la presenza di pubblico Caso Miniere vogliamo saperne di più appunto ieri è arrivato sul secolo questa notizia che un'azienda importante australiana sarebbe interessata a fare degli scavi in alcune locazioni tra cui anche la Val Graveglia interesse di alta zinc per i siti del Levante lunedì incontro tra i sindaci e la regione molti interrogativi del territorio questi siti minerari sarebbero nel comune di Ne a Monte Bianco Gambatesa Reppia Monte Bardeneto e poi su Sestri Levante Libiola Monte Loreto Bargone a Casalza Ligure Gallinaria Campelli sempre in Val Petronio ma Castiglione Chiavalese e Molin Cornaio a Maissana cioè lì l'alta zinc vuole vedere se ci sono dei minerali ricchi come il rame ma addirittura anche come l'argento e l'oro addirittura si ipotizza la presenza di oro e quindi vorrebbero fare degli scavi dei carotaggi per capire se veramente ci possa essere questa possibilità di sfruttare questi giacimenti speriamo che si trovi dell'oro nel nostro territorio ritiro rifiuti ingombranti prenotazione online la novità Chiaveri Rapallo e Zoagli e poi bar, ristoranti e negozi sono i rinunciabili presidi sociali di Vallata fondi per gli esercenti dell'entroterra perché in questa crisi chiaramente parliamo sempre dei commercianti delle zone centrali di Chiaveri di Rapallo Santa Margherita Sestri eccetera ma ci dimentichiamo anche di quelli ancora più danneggiati dell'entroterra perché pensate che in zona arancione nessuno dalla costa può andare nell'entroterra questi negozi che vivono soprattutto e vivono soprattutto dell'arrivo di tante persone dalla riviera rischiano davvero la chiusura quindi c'è la richiesta che queste attività abbiano i fondi pubblici per poter continuare a resistere perché non sono soltanto negozi ma sono presidi di socialità questo lo diciamo da sempre i negozi di vicinato o comunque i negozi di paese non sono soltanto dei punti dove si compra si acquista eccetera ma anche dei punti di incontro dei punti vivi dove c'è la presenza fisica delle persone poi se no i paesi e le città e le frazioni diventano solo dei dormitori questa è un po' la differenza Orecchia resta presidente ma guarda pure alla politica la chiave di scherma rinnova il direttivo e l'ex assessore chiavarese Nicola Orecchio ne diventa appunto presidente anzi rimane presidente quindi evidentemente lo era già e poi la virtus entella c'è una dichiarazione del presidente Gozzi l'entella non è ancora retrocessa ieri in tanti hanno già suonato un po' l'area funebre per la retrocessione in serie C ma appunto il presidente Gozzi dice lotterà finché ci sarà una minima speranza perché la matematica non la condanna ancora siamo ultimi accettiamo le critiche ma giocare in serie B a chiave è certamente più difficile rispetto ad altre piazze e beh adesso sempre dal secolo XIX leggiamo l'ultima pagina che ci rimane di cronaca locale poi naturalmente andremo a vedere anche la situazione meteo morte cerebrale per l'imprenditore investito a Chiavari in via Franceschi il chiavarese Votiscorni a 63 anni ricoverato nel reparto rianimazione del San Martino i suoi organi saranno donati per volontà della famiglia l'uomo è stato travolto sulle strisce pedonali da una vettura che faceva retromarcia contromano in via Franceschi a Chiavari la patente della donna alla guida di quest'auto è stata ritirata dalla polizia locale la tragedia in montagna all'ospedale ha ricordato Elisa Martina Enrile morta sul Monte Zatta a 30 anni fare una escursione con il suo fidanzato Davide Santi e poi addio anche al Duca Carnevaro Emanuele Carnevaro Duca di Zoagli insomma dell'omonimo Castello deceduto a Firenze ma la salma sarà portata a Zoagli è scomparso anche il commerciante Roberto Riccardi ambulante oggi alle 15.30 nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa i funerali poi a domenica in piazza Mazzini dalle 8.30 alle 12.30 raccolta straordinaria di sangue a cura dell'Avis si è spento anche Roberto Garbarino i funerali saranno appunto siano già svolti a Recco è lui disabile ha fondato l'associazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche ABBA e ora molti continueranno nel suo nome a chiedere più diritti per i disabili poi ultimo saluto anche a Luigi Grino storico professore del Natta e appunto molta popolazione scolastica sestrese non solo lo ricorda con grande affetto a questo punto velocemente diamo una lettura della situazione meteorologica di queste giornate abbiamo detto che arriva un flusso di aria fredda che inizialmente porta anche delle formazioni nuvolose che nel corso della giornata di oggi potrebbero dar luogo a precipitazioni che saranno nevose al di sopra dei 700-800 metri sul comparto Aveto-Sturla e Trebbia e quindi nevicate che potrebbero essere sulle cime più alte ma anche insomma più o meno anche nei paesi e queste precipitazioni potrebbero avere degli sconfinamenti nel resto dell'entroterra ma anche sulla costa e limitatamente all'imperiese e al settore di Levante quindi potrebbero scendere delle gocce di pioggia anche sulla costa nel corso del pomeriggio ma attenzione perché arriverà anche molto freddo i venti infatti al mattino moderati da nord e nel pomeriggio avranno una ventilazione da nord-est sui rilievi e versanti padani debole lungo la costa e anche di direzione variabile il mare generalmente poco mosso con temperature in calo oggi le massime non andranno sopra i 13 gradi per domani Liguria divisa in due sul ponente nuvolosità molto accentuata e delle precipitazioni che saranno nevose al di sopra dei 600 metri quindi domani cala ancora la quota neve nevicate possibili anche sull'aveto Trebbia e anche sui rilievi del Savonese per il resto della regione invece nuvolosità sparsa con possibilità di qualche scarita ma poca probabilità di pioggia 20 domani deboli moderati da nord e nord-est con mare poco mosso al più mosso al largo e temperature in ulteriore lieve calo grazie ad Alessandro Bavestrello che oggi ha curato la parte tecnica in regia ad Andrea Capitani in redazione a tutti voi per l'ascolto l'informazione torna alle 12.45 per il Tg Tiguli oggi da parte di Marco Revello l'augurio di un'ottima giornata a tutti a domani 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 a domani